ciao a tutti oggi prepareremo la crema spalmabile baci perugina il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono baci perugina cioccolato fondente cioccolata al latte zucchero nocciole tostate olio di semi di arachidi cacao amaro vanillina latte intero e granella di nocciole diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere le nocciole ed azionare il bimbi per 30 secondi da velocità 6 a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola a questo punto il composto avrà la consistenza di una crema aggiungere il cioccolato fondente i baci perugina il cioccolato al latte e ad azionare il bimbi per 50 secondi da velocità 6 a velocità 9 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'olio il cacao amaro il latte e la vanillina ed azionare il bimbi 6 minuti 50 gradi velocità 4 lasciare raffreddare nel boccale il composto si è raffreddato aggiungere la granella di nocciole e amalgamare per 20 secondi anti orario velocità 3 la crema è pronta trasferire in vasetti di vetro crema spalmabile baci perugina si conserva in frigo per un mese grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.